Entriamo nel vivo e andiamo a presentare i protagonisti da puntata odierna per la squadra dei trader. Abbiamo con noi Filippo Giannini. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. Buonasera a te, il tuo sfidante per la squadra degli analisti sarà Paolo D'Ambra. Benvenuto anche a te Paolo. Ciao a tutti, un saluto a Filippo e a te Riccardo. Filippo, inizio da te con porre anche a te il quesito che ho chiesto agli amici a casa. Abbiamo vissuto un recupero che secondo te è un semplice rimbalzo tecnico oppure inizio di una fase rialzista per quanto riguarda le borse globali? Il discorso è questo. Secondo me è chiaro che quello a cui abbiamo assistito è stato comunque un rimbalzo significativo. Se prendiamo l'SP500 ad esempio, che sappiamo essere il benchmark, ha fatto un quasi più 12% a partire dai minimi di marzo. Quindi sicuramente un ottimo recupero. Ma secondo me questa domanda comunque sia è figlia anche e soprattutto del mood che abbiamo osservato sui mercati azionari in particolare nel corso degli ultimi due anni, ovvero un mercato che salvo qualche piccola correzione di fatto era un mercato prettamente toro. Quindi tanto per capirci swing rialzisti di ampiezza molto più pronunciata rispetto ai attrettanti swing ribassisti. Sotto questo punto di vista secondo me il 2022 sarà un anno diverso fin qui l'abbiamo visto e quindi a mio avviso dovremmo anche abituarci a vedere swing al ribasso alternati a mosse rialziste come quello che abbiamo visto. Quindi è difficile, come dire, inquadrare la dinamica attuale se la paragoniamo con quanto osservato nel corso degli ultimi due anni. Perché? Perché il mercato potrebbe tranquillamente, a mio avviso, dai livelli attuali, dai massimi attuali, stornare, magari stornare un 5, 6, anche un 7% e poi magari riprendere, diciamo ecco, la via dei rialzi. Quindi faremo fatica secondo me nel 2022 a inquadrare l'azionario in un quadro prettamente long o prettamente short, quanto piuttosto ecco dovremmo abituarci a delle correzioni anche importanti alternate come in questo caso ad altrettante salite. Secondo te sarà l'ora dello stock picking, nel senso ancor più che quello che dovrebbe essere poi un atteggiamento obbligatorio andare a fare una selezione nei propri investimenti, ma pensi che il clima attuale porterà a essere ancora più selettivi sui mercati? Assolutamente sì, ma questo lo stiamo già vedendo e poi magari ne parliamo anche con quelle strategie che ho preparato per la gara di oggi. Perché? Perché comunque sia anche all'interno degli stessi settori o quindi anche per esempio anche all'interno dei tecnologici ci sono diciamo ecco dei titoli che che spiccano, no? Magari anche a fronte di performance cioè se paragonate, no? In intraday con quello che è l'indice di riferimento, ovvero in questo caso il Nasdaq. Quindi sicuramente sì, diciamo ecco la fase, ma questo ripeto anche questo è un sarà secondo me un tema che caratterizzerà tutto il 2022. Quindi in un anno che secondo me si preannuncia privo di forti trend e quindi privo di forte spinta direzionale a rialzo, secondo me sarà molto importante andare invece a scegliere quei titoli che vuoi per i fondamentali, vuoi per i piani strategici, vuoi per tutta una serie di motivi andranno a sovraperformare il benchmark. Perfetto Filippo, allora peraltro sappi che avremo anche una domanda a cui rispondere amici a casa che chiedono quali sono le prospettive per le azioni grossi globali nel corso del 2022, rispondiamo però dopo aver visto la prima strategia, quindi alziamo il velo e vediamo qual è la prima carta che ci mostri, in questo caso una strategia rialzista o ribassista? Sì, allora partiamo dalla prima strategia che è un long su SP500, è un long sulla debolezza, livello che peraltro è stato già testato oggi dal mercato, quindi con la discesa odierna e il mercato hanno già testato questi livelli, vedremo se insomma quello che succederà a partire da domani se il mercato riuscirà a tenere quota 4550 punti, che è appunto il livello di attivazione di questo buy limit, questo perché sulla precedente correzione il mercato ha poi proprio su questi livelli completato un pattern di tipo testa spalle rovesciato e da qui poi abbiamo visto la salita di ieri appunto che si è stesa fino a quota 4580 punti nella giornata di oggi, quindi contiamo appunto che quest'area possa fungere in questo momento da cuscinetto e quindi sostanzialmente operiamo long sul pullback del livello di rottura di questo pattern grafico. Lo stop in questo caso è posizionato sotto la testa, quindi sotto il minimo fatto da questa figura rialzista, quindi qua da 4500 punti e il target invece è 4650 punti. Filippo, ho annotato i livelli, abbiamo annotato tutti i livelli per quanto riguarda la competizione, una considerazione, il tuo target è oggettivamente ok ben incalibrato in termini di rischio e rendimento, ma poi se lo si fa vedere anche all'interno del grafico in realtà non scioglie il nostro quesito che abbiamo posto anche gli amici a casa sulla chat, ossia se sia l'inizio di un nuovo rally o invece un pullback. A favore del pullback mi viene dire da un punto di vista operativo la constatazione che i recenti massimi guarda caso si sono fermati in prossimità di un'area di transito di un livello dinamico non banale, lo vediamo anche su un grafico con un orizzonte temporale ben più esteso, una trendline rialzista che una volta capitolato insomma secondo me ha dato un segnale non banale. Sì sì assolutamente sì, il target è figlio anche del fatto che oltre chiaramente in diciamo ecco contestualizzato in termini di volatilità ma qui chiaramente comunque siamo su un orizzonte multiday ma soprattutto perché quota 4650 io vedo un'area dove il mercato secondo me farà fatica a scambiare e andare ulteriormente al rialzo e quindi diciamo ecco mi aspetto come dire forse un'ultima fiammata appunto dei prezzi però comunque quota 4650 secondo me è un livello da monitorare come resistenza e quindi ecco da qui l'idea appunto di posizionare il target su su quei livelli chiaro che se poi diciamo il mercato dovesse andare invece a scambiare ad annullare questo pattern grafico che poi se lo guardiamo su su grafico giornaliero si traduce di fatto in una candela di sostanziale indecisione quindi di una candela d'oggi a range ristretto e è chiaro che se il mercato dovesse andare di fatto ad annullare questo questo pattern grafico quindi andare a breccare quota 4500 punti a quel punto potrebbe già da qui partire una correzione anche perché in quel caso il mercato completerebbe invece una figura di distribuzione più ampia ovvero un modello a doppio minimo decrescente doppio massimo chiedo scusa decrescente e da qui sarebbe lecito attendersi ulteriori ribassi e allora rispondendo a gianluca prospettive delle azioni growth globali nel 2022 ma anche qui ripeto dipende dipende bisogna secondo me diciamo è difficile dare dare una risposta è difficile anche ipotizzare uno scenario perché molto dipenderà anche da da quello che sarà l'evoluzione appunto del della guerra tra tra russia e ucraina solitamente in napoli in una fase di mercato in cui si alzano i tassi di interesse le aziende grossi vengono penalizzate perché sono aziende che hanno bisogno di cassa bisogno di soldi per poter crescere e svilupparsi nel loro business ovviamente la politica comodante delle banche centrale abbiamo visto che busta è stato per le aziende quotate al nasdaq forse quella selezione di cui parlava prima filippo porta a non tanto ragionare come comparto e come velio gross ma secondo alcune specifiche ad esempio non lo so start up attive nella difesa probabilmente in questa fase riescono ottenere molto più facilmente una repricing dal mercato rispetto a non so una start up che si occupa di consegne a domicilio dove magari già abbiamo dei player anche di size globale che rendono l'arena competitiva più difficile ecco dipende forse ancor più che in passato dalla specifica storia dello specifico settore più che dalla distinzione velio e gross my two cents ovviamente e allora abbiamo visto la prima strategia abbiamo ancora altre domande da casa in particolar modo giuseppe ne pone una molto interessante sui temi sg andiamo a vedere dopo justin che chiede di twitter e gas naturale lo andiamo a vedere con paolo d'ambra quindi rimani collegato justin e avremo una risposta anche per te seconda strategia a questo punto o filippo in questo caso è una carta rossa o verde quella che mette sul mercato allora anche qui è un'altra carta verde è un long su sull'oro e anche qui diciamo ecco considerazioni legate sia al contesto macroeconomico ma anche rispetto a quella che la struttura grafica appunto del del gold qui tra l'altro lo dicevo anche settimana scorsa in un altro appuntamento di come il mercato abbia di fatto fatto questo falso breakout rompendo quota mille e 896 che era il precedente minimo di swing dopodiché qui invece candela resistiva il 29 marzo scorso e da qui il mercato di fatto ha recuperato parte del del terreno perso e già in quell'occasione insomma avevo espresso le mie perplessità riguardo alla alla validità di questo modello di distribuzione perché insomma ecco poco poco chiaro e diciamo ecco poco in linea anche con il contesto generale ritengo invece che ci sia spazio per assistere ad un ulteriore apprezzamento sull'oro qui l'idea è quella di provare un acquisto sulla forza e quindi in questo caso un acquisto sul break al rialzo di quota 1955 punti precedente massimo di swing del 31 marzo scorso il target fissato a quota 1990 punti un livello che secondo me ha molte probabilità di essere ritestato per quanto riguarda il gold mentre invece lo stop è uno stop posto a quota 1920 punti anche qui un livello che ha tenuto il mercato a gallo nelle ultime sessioni e che di contro appunto se venisse rotto a ribasso potrebbe invece supportare una correzione più ampia è allora una domanda a filippo perché vi è una forte è un forte dibattito su questo nelle ultime settimane con lo scoppio della guerra anche per quanto concerne le sanzioni abbiamo visto una bitcoin che si è decollerato dal mercato azionario soprattutto quello tecnologico americano e un po ha lavorato da bene rifugio quale si è sempre detto sia è considerato l'oro 2.0 per certi versi se si va a vedere le performance degli ultimi anni chi vuole mettere alfa in portafoglio ovviamente va a privilegiare bitcoin poi dipende dal timing e dal punto di ingresso rispetto a un oro che è vero ha toccato i massimi storici poche settimane fa ma non è che stia vivendo una fase particolarmente brillante nonostante un ambiente generale assolutamente favorevole all'oro secondo te è da preferire l'oro bitcoin o una combo di queste due asset class per avere quella protezione dall'inflazione e anche quella protezione tipica di un bene rifugio ma sicuramente diciamo ecco anche per un po per diversificare si potrebbe scegliere diciamo ecco una di di allocare una parte sicuramente la parte più cospicua secondo me sul sul gold perché ora non me ne vogliano diciamo ecco i sostenitori di bitcoin ma io continuo non ad essere scettico perché ormai lo scetticismo è roba vecchia però un mercato che comunque ancora non è pienamente regolamentato un mercato che è soggetto a forti oscillazioni in termini di volatilità è vero che si da una parte può rappresentare una protezione ma tendenzialmente per me protezione significa anche stabilità dei prezzi quindi sicuramente una diversificazione con una parte minoritaria del portafoglio si può fare secondo me su bitcoin però secondo me il gold comunque sia è ancora è e resta ancora il principale bene rifugio e allora grazie e rispondendo invece a Donato che ci chiedeva di risentire i livelli della strategia su S&P 500 in qualche modo min e max l'ingresso 4.550 punti stop 50 punti 4.500 per quanto riguarda il target 4.650 rapporto rischio rendimento 1 a 3 e a proposito di 3 abbiamo già passato e annotato le prime due strategie giriamo pagina e andiamo a vedere a questo punto la terza operazione che ci proponi in questo tuo intervento settimanale ad House of Trading sì allora la terza operazione invece è uno short è uno short sul rame e se andiamo a vedere il grafico osserviamo che cosa che comunque sia anche qui c'è stato uno storno importante a partire da quota 5 dollari più o meno a inizio marzo scorso dopodiché però abbiamo visto comunque sia le quotazioni tornare a scambiare in risalita è stata comunque una salita che si è svolta con una A con una volatilità alquanto ridotta e B il mercato è stato abbastanza stabile nel senso che nel corso delle ultime tre settimane ha scambiato all'interno di un canale rialzista ben delineato e ad ogni formazione di nuovo massimo il mercato di fatto ha reagito andando a correggere fino alla parte bassa di questo canale tra l'altro qui potremmo anche diciamo ecco ipotizzare un modello di distribuzione basato sulle onde di Wolf quindi tre massimi decrescenti che di fatto sono un segnale appunto da prendere in ottica ribassista in questo caso e da qui l'idea è proprio quella di seguire il comportamento che è tenuto dal mercato appunto nel corso delle precedenti occasioni e quindi di fatto uno short che si attiverebbe in caso di breakout dei minimi odierni quindi per quanto riguarda i livelli l'attivazione è appunto uno short in questo caso è uno short in un ordine stop a 4.7745 punto di attivazione stop loss 4.86 massimi di oggi target 4.669 estremo inferiore di questo canale ribassista Filippo quando si parla di rame si parla di un metallo che storicamente sui mercati viene usato come termometro sullo stato di salute dell'economia quando l'economia è vista in espansione si compra rame perché viene utilizzato in più settori e in più usi da ultimo il rally che abbiamo avuto anche nei mesi scorsi era legato alla green economy si usa molto il rame all'interno di tutti i vari delle varie componentistiche che sono legate al mondo green però ecco il tuo short può essere letto anche come un modo per cavalcare un'eventuale contrazione d'economia globale abbiamo visto e stiamo sentendo anche in questi ultimi giorni come banche centrali piuttosto che banche d'affari e via dicendo stanno un po' andando a tagliare i loro outlook sulla crescita globale o dei singoli nazioni ecco può essere letta anche così questa operazione? No può essere deve essere letta in quest'ottica cerchiamo chiaramente quando mettiamo in campo le strategie anche di andare a cercare di coprirci da eventuali scossoni di mercato e sotto questo punto di vista questa strategia è una strategia prettamente difensiva perché perché comunque sia i mercati in generale scontano ancora un clima di incertezza è vero che forse non ci sono ad oggi abbastanza elementi per supportare una correzione più marcata però è altrettanto vero che alcuni indizi magari ce lo potrebbero far pensare abbiamo visto l'appiattimento della curva dei rendimenti USA si parla appunto di una Federal Reserve in sostanziale ritardo con la stretta sui tassi e quindi questo rallentamento della crescita su scala globale lo vediamo in primis noi cioè è un qualcosa che è già tangibile sulla vita Guarda Filippo te lo dico in modo concreto nei giorni scorsi sono stato a Napoli per investi in Napoli visto che ero con famiglia eccetera sono andato in macchina ecco per comodità da casa a Napoli due chiare sensazioni uno il costo della benzina al di là di quello che era il valore nelle autostazioni proprio la velocità di crociera delle macchine quasi terze corsie quarte corsie libere e tutti andare molto piano e poi secondo punto ma di certo non per importanza molto meno traffico camion macchine persone gente in movimento e voglio dire ho fatto la uno ho fatto la spina dorsale dell'Italia eppure la sensazione è stata quella di un impasse generalizzato del paese sì assolutamente sì diciamo ecco quindi ripeto sotto questo punto di vista è chiaro che in caso di rallentamento dell'economia globale il rame che come dicevi giustamente tu è da sempre il termometro di quello che ha lo stato di appunto di salute di un'economia potrebbe andare le portazioni potrebbero andare a risentirne e da qui appunto l'idea di questo short allora anche questa strategia l'abbiamo annotata il tempo scorre e ti rimangono solo due operazioni da proporre andiamo a vedere la quarta strategia che ci proponi qui ad house of trading sì la quarta strategia proprio per rimanere in tema di stock picking è un long su tesla proprio perché parlavamo poc'anzi appunto di azioni di titoli in grado di sovraperformare appunto il benchmark e in questo caso appunto tesla che è stata ieri protagonista dell'ennesimo strap ma in generale una resilienza pazzesca per quanto riguarda tesla che di fatto è è tornata praticamente a un passo dai precedenti massimi storici l'idea qui è un long un un by limit ovvero perché perché comunque ieri è chiaro che il rally di tesla dopo qualche sessione di impasse era stato chiaramente alimentato era stato più forse un rally di pancia eh perché chiaramente alimentato lo dicevi tu in apertura dalla notizia dell'acquisizione del 9 per cento di twitter da parte d'elon musk quindi magari sotto questo punto di vista potrebbe orre esserci spazio per un pullback però posso chiederti una cosa per capire un attimo come ragiona il mercato se io sentissi che ilon musk compra il 10 per cento di twitter e che lo fa dopo averlo criticato pochi giorni prima dicendo che vi è poco spazio che gli dà fastidio e il mercato che pensava che come trump anche ilon musk avrebbe lanciato un social network con i miliardi che riescono dalle tasche come se fossero noccioline ovviamente si è girato e andato a comprare sul mercato il primo social network quello che stava criticando ecco però io da investitore di tesla direi ok se ilon musk e sappiamo essere un genio però 24 ore ci sono il giorno le forze per concentrarsi sono comunque dei beni fatti e finiti ecco avrei forse avuto un po di timore se ilon musk si va a concentrare su twitter magari distoglie un po l'attenzione da tesla perché è il mercato ha comprato tesla ormai è una struttura talmente organizzata ed elon musk è più una figura mitologica di riferimento per il mercato piuttosto che una figura di riferimento dell'azienda questo ci sta anche dicendo il mercato ma secondo me sì ma di fatto elon musk è diventato il nuovo remida cioè qualsiasi cosa tocca la fa diventare la fa diventare oro l'abbiamo visto anche in passato con con il bitcoin poi sul suo rapporto con twitter ci sarebbe da fare un discorso a parte ma non lo possiamo fare per ragioni di tempo di sicuro c'è che comunque sia se guardiamo a quello che quello che è in grado di fare tesla ripeto un titolo che di che dimostra ancora una forza relativa elevata e quindi se devo andare a scegliermi un titolo sul quale andare long in questo in contesto lo faccio su un titolo che mi dimostra comunque sia di di essere in salute che mi dimostra comunque sia di di essere sostenuto da parte della parte degli investitori questo sicuramente e allora dici i livelli di questa strategia che ci proponi sì allora l'ingresso è 1100 tra l'altro livello già ritestato nella sessione di erne anche qui stesso discorso vedremo a partire da domani se il mercato andrà ad attivare la nostra strategia lo stop loss è sul minimo di due giorni fa quindi quota 1.075 mentre invece il target è a quota 1.150 punti a casa cosa ne pensate di questa strategia avete la chat potete dircelo potete utilizzare la chat anche per chiedere delle strategie particolari anzi se avete una titolo in particolar modo chiedetelo il titolo che verrà maggiormente richiesto da voi sia sulla chat che però si chiude a fine diretta sia nei commenti sotto al video fatelo e la prossima settimana andremo a chiederla ai protagonisti di house of trading a filippo a questo punto andiamo a vedere l'ultima operazione per questa per questo tuo full di strategie che ci hai proposto qui ad house of trading si l'ultima strategia invece di contro è uno short sul sul nostro fuzzini anche qui se il mercato scende vado a prendermi diciamo un listino che in questo momento mi dimostra di fare fare un pochino più fatica appunto degli altri è uno short che si attiverebbe anche questo è uno short in stop è uno short che si attiverebbe in caso appunto di breakout sui minimi del 31 marzo scorso quindi quota 24.230 punti livello che di fatto nelle ultime tre sessioni ha già respinto per ben tre affondi appunto e cercato appunto di mantenere il mercato sopra al di sopra di questo livello è chiaro che magari un ulteriore tentativo potrebbe essere appunto quello che diciamo ecco porterebbe potrebbe portare alla rottura appunto di questo supporto quindi in caso di debolezza andremo appunto ad operare in in short quindi livello di ingresso quota 24.230 punti stop 24.450 e target 24.000 punti sai cosa mi ha colpito della seduta odierna perché secondo me è stata molto particolare veramente si è percepito lo stock picking su singole azioni su singoli settori rispetto al recente passato mi sembra che la comparto delle utility sia più resiliente ma poi abbiamo avuto una campari che ha rialzato la testa di contro univeco che è andata a far segnare i minimi storici da quando si è quotata insomma hai avuto anche tu questa sensazione sì assolutamente sì ma ripeto non è un discorso solamente legato a piazza affari ma è un qualcosa che stiamo vedendo un po su tutti i mercati sai quando ci sono queste fasi di incertezza è proprio lì come dicevo prima che bisogna andare a cercare di focalizzare l'attenzione quindi fare proprio diciamo scouting chiamiamolo così su quei titoli che presentano una struttura grafica maggiormente diciamo inclina a supportare rialzi o che hanno formato appunto delle delle candele in un qualche modo resistive riuscendo a magari riassorbire eventuali eventuali ribassi quindi in questo contesto sicuramente un approccio del genere può fare la differenza e allora grazie mille Filippo per essere stato con noi è sempre un piacere averti qui a House of Trading grazie a te Riccardo arrivederci a tutti e buon trading